Sulla fibrosi pulmonaridiopatica abbiamo novità che riguardano la comprensione dei meccanismi per cui la malattia si sviluppa e abbiamo delle novità terapeutiche e anche prima ancora delle novità diagnostiche. Per quanto riguarda i meccanismi che portano alla fibrosi pulmonaridiopatica ormai è chiaro che è una malattia che ha relazioni con quel fenomeno biologico che va sotto il termine di senescenza e che è anche chiaro che sono coinvolti in primo luogo le cellule staminali degli alveoli cioè i pneumociti di secondo ordine. Questo è un elemento importante perché potrebbe chiarire in futuro quali nuovi farmaci possono essere utilizzati e come prevenire soprattutto la comparsa della malattia. Dal punto di vista diagnostico abbiamo la novità che riguarda la possibilità di ottenere pezzi di tessuto polmonare, campioni polmonari senza fare la biopsia chirurgica. È attraverso una biopsia con criosonde cioè con sonde che vengono congelate in brevissimo tempo a meno 50 gradi e si ottengono dei frammenti di parenchima polmonare che sono assolutamente sufficienti per avere una diagnosi precisa del quadro morfologico. Qual è l'importanza? Perché è importante questo approccio? Perché prima si risparmino indagini invasive che hanno effetti colaterali non indifferenti e in secondo luogo perché in questo modo noi riusciamo comunque probabilmente a studiare meglio e a identificare meglio sottogruppi di malati con questa malattia. Terzo punto la terapia. Sappiamo che adesso ci sono due farmaci specifici proprio per la fibrosi pomaridiopatica, il pirfinidone e adesso il nintedanib hanno meccanismi di azione differenti, hanno dimostrato entrambi la capacità di ridurre la progressione della malattia. Il pirfinidone ha un effetto anche sulla riduzione del rischio di mortalità, il nintedanib ha la tendenza a ridurre le cosiddette fasi accelerate. Una cosa importante è che probabilmente questi farmaci sono utili, anzi molto probabilmente sono utili nelle fasi iniziali delle malattie quindi una terapia in fase precoce può essere importante e questi farmaci sono sicuramente il primo step per un futuro che vedrà in campo farmaci più potenti o comunque magari anche l'associazione dei medesimi farmaci.